ciao a tutti oggi è 14 ottobre 2019 sono qui sul ponticello del laghetto della stazione dove mi rendo conto che evidentemente tutto questo periodo che il laghetto è stato abbandonato era una cosa voluta come si vede è molto bello è tornato ai vecchi splendori peccato che non c'è la fauna io mi ricordo questo laghetto con pesci, papere e anche i cini speriamo che qualcuno si ricordi com'era però per mantenere in ordine ci vorrebbe che qualche associazione volontaria si impegnasse a mantenere la pulizia questo per evitare oneri al comune va bene io vi saluto ciao a tutti ci vedete in un altro video salve